E diremo chi fa, sto Catania in Serie A, su tutti i Catanisi va a sognare, siamo tutti con te e soffremo per te... Campagnolo, sei. Da c'anni vi ci quattro partiti, vi do' anno a Pandu Caravandi, in pratica vi 500 allenamenti in despatti a Tagliacchiddo, nei schieno si disindossi e cattolo. A Varec qua, ci ho spiegato che a Bologna non è una palestra di karate, l'anno scorso attaccavano la prima minuta a fare falla e si vince a biaere fuori a gianto primo tempo, a Vanna stessa cosa, pugni e perate a cui capita prima, venne ammonito e fa stare con l'ammassatata tutta partita, dalle spuste neri viaggiando e sapeva ridere che cominavo. Ma... Le grottaglie. Sei. Già si viste che c'era malavigliata all'inizio quando si ingazzava con il divaio, bisidiarci iddo vuol dire che non ci poteva manco l'aiuto del signore, scelte volte a fare un professore in mezzo a un pugnare pecore. Purazzo. Bellosce. Quaccio. Fa un fallo bestia vicino alla rimessa con diamanti votati, da punizione si scorda che a maccare e pigliamo un gol. Suppogni di se pensi una società ci lavassi 100 euro, a finora mese ci restassero forse manco 20 euro. E da prima partita catturico. A STARE ATTENDO! IESICO. 5. All'inizio si fa una bella calata ma che non si ci giocatori. A poi c'è chi una panettone e tira una fidanzia. Un resto della partita c'è chi una maccara scacciata a chi roccoli, chi dà cadù, ma pasto funne e rendicchi cocotechino. E i risultati si vistono. Lodi. C. Come i passaggi che hanno settato tutta la partita. A U. Ma se ti si dì a giocare, dillo prima che a me non gioca mappara. scongettante. Non ho senso che fa bene lo scongetto. A MIRON. 5. I DOCAY ELLENDO. Oggi non ci vedevano a pallini, ci vedevano a pandori. Ma quando ci sono a mangiare ammata, ecco i picchi l'amono che se ne vuole scappare. Appanzato. Ma che è se? Qua c'è in mezzo. Faccio un DOCAY AMMAVA in casella a me lo cacciò d'angolo, visto che a sinistra c'era una autosciata. Piange e usale. MARIENDOS. 5. Ficci una bella partita, anche se è un po' che è disturbato da chi dica maglietta a Young. Perfatti so. Papo Gomez. Ci è in mezzo. A fine primo tempo pindono i Ghostbusters con chi appaiono. A poi lo vissero allociando questi sei che cercavano un panettone e PS con un bandoro a PAMIRON. Ma chi sei Lopez? Qua c'è in mezzo. Pi stupare una palla più vicino a chi essere a 6 match. Di testa ne picchia solo uno all'ultimo picchi sci di cavo. Quando ne picchia anche peri succede una barrienda o spingio di giocare. Gomez o c'è o non c'è la stessa cosa. L'Odisi si diava. Ma che si stesse tutto tempo a puntare si sotto casello. Iessi che a Miron vireva una palla solo su ci abbiava un po' con il glasso di sopra. Purazzo che poteva fare. A fine partita ci rese una figurina di gillè giusto per vedere come erano da facci. Biaggianti. 5. Ciasi. E si fa a ghettare fuori. Bravo. LAMA. 5. Rientra dopo un lungo infortunio e era meglio che se stava a casa. AUUH! Ci ho spiegato che io fuori gioco per favore. Beggessio. 6. Da 15 minuti fai chiedere tutti i luci e non fanno. Gioco a pallone. Montella. Si. Come ti ricapisimo un botta. Oggi era facile facile. Abbarezzammo a casa a tezzini e bellusci le grotte agli essenziali. No. Io da fare ci cingurui si ha fissato. Ma non è vero che non facciamo un tiro un botta. Che ci aspettavamo due gol a partita. Che ci sono giocatori che sono d'era. E poi non devi venire e fare ciò sarà l'AMA. Ma non è un bel gioco a tenere prima. Ma. 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 Ma.